Una pizza per l'estate, tante proposte, qual è la sua proposta? Si presenti? Allora, sono Sara Palmieri, la mia pizza per l'estate è la fresca, appunto perché penso che è aggettivo migliore per un cibo in estate, non ci sia. La mia è una focaccia senza glutine, io mi occupo unicamente di senza glutine, quindi una focaccia senza glutine è un'uscita a un letto di rucola, stracciatella, polvere di menta, alice marinato e fiori eduli. Quali sono i gusti che maggiormente sono più apprezzati dal consumatore in questa stagione? Quando si parla di pizza diciamo che viene apprezzato tutto, è naturale che in estate si va su prodotti freschi, quindi appunto una bella caprese su una focaccia, prodotti più freschi, un alice, un filetto di tonno, invece in inverno ci possiamo sbizzarrire con prodotti un po' più rustici. Grazie. Grazie.